ritorna a quel rompiscatole del cuoco in scatola ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale visto che l'ho imparato finalmente oggi una ricetta del cuoco in scatola una cosa veramente afrodisiaca che cosa abbiamo preparato? io niente hai fatto tutto tutto vabbè ma tu mi hai aiutato un pochettino dai abbiamo preparato un risotto nero ai frutti di mare tutto con preparazioni già più o meno facilmente trovabili al supermercato quindi anche un single che vuole conquistare la propria donzella potrà farlo agevolmente seguendo i consigli di questo mino qui e allora spostiamoci là e andiamo a vedere come si fa bene benvenuti qui alla nuova ricetta del cuoco in scatola ombretta giustamente qui pronta con l'estintore in caso non vi preoccupate ragazzi non vi preoccupate bene oggi cosa prepareremo un risotto nero ai frutti di mare posso chiamarlo nero? un risotto nero di set un risotto nero benissimo tu devi dire sì sì benissimo brava e quindi oggi cosa andiamo a preparare? della deluxe Lidl risotto carnaroli al nero di seppia vedi che sto leggere? comprato da Gabriele e da me mai avuto il coraggio di essere cucinato dovremmo fare a natale degli arancini al nero di seppia niente ragazzi non ci sono riuscite secondo me nero di seppia e risotto in scatola proprio sono due concetti che non collimano è vero è vero ma poi il risotto noi di solito ci mettiamo gli spaghetti no? noi si ma proprio già avere il nero di seppia e scatola quindi Gabriele oggi ha voluto fare questo espload dice ci penso io ad utilizzarli e vediamo come li ravviverà utilizzeremo per questa ricetta due confezioni perché stiamo cucinando per cinque persone poi ci occorreranno tre spicchi d'aglio due più uno devi dirlo sì due più uno quindi uguale tre brava sale a piacere un limone un litro e mezzo di acqua non salata per ogni confezione ne servirebbero 750 quindi il doppio poi due confezioni di frutti di mare misti spaghettata di mare si chiama questo qua sempre presa da Lidl e poi mazzancolle tropicali code di mazzancolle bellissime bene non è un piatto economico no non è un piatto economico e poi olio extravergine d'oliva perfetto cominciamo subito aiuto allora come prima cosa pulisco due spicchi d'aglio e li butto in quest'acqua e due una volta messi due spicchi d'aglio mettiamo a bollire mi raccomando senza sale in un wok versiamo un giro d'olio aggiungiamo uno spicchio d'aglio e accendiamo la fiamma 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 allegra appena l'aglio incomincia a soffriggere buttiamo dentro senza bruciarci i nostri frutti di mare precedentemente sciacquati per levare la brina e anche le mazzancolle lasciamo andare un pochettino il tempo che tutti gli elementi si stacchino questa spaghettata della Lidl è molto buona perché oltre ai frutti di mare ci sono quindi le vongole le telline quindi le piccole telline le vongolette i gamberi il merluzzo cosa c'è poi? le seppioline le seppie il calamaro e poi ci sono anche i pomodorini e le olive quindi un bel mix già bello e pronto ci sono anche le mazzancolle ci sono anche le mazzancolle lasciamo andare e ci vediamo qua una volta che tutti gli elementi si sono un attimino separati una bella presa di sale e mescoliamo una volta che tutti gli elementi si sono separati fiamma alta e facciamo soffrire come vedrete dopo un bel po' i frutti di mare avranno buttato questo bel sughetto approfittando di questo sughetto noi cuociamo il riso direttamente la con i frutti di mare giusto? giusto quando aprite la scatola del riso dal nero di seppia trovate due buste una con il riso e una con il preparato appunto liofilizzato buttiamo prima il contenuto in polvere anche l'altro e due e mescoliamo dai messo il riso pare pare persieme il riso bollendo deve mantenere la cottura per 15-17 minuti io ho di fianco alla mia acqua quella che ho fatto bollire prima con i due spicchi d'aglio man mano che il mio sughetto di cottura va restringendosi quindi io aggiungerò poco a poco un mestolo d'acqua bollente in questa fase metto due mestoli di acqua bollente a inizio cottura mescolo bene e lascio andare man mano che il sugo si restringe metto un mestolo d'acqua mentre Gabriele un attimo così divaga con la videocamera io vado alla ricerca dei due spicchi d'aglio che aveva messo nei crostacei se no voi ve li mangierete insieme alle vongolette eccoli qua uno e li togliamo dalla cottura perché già hanno rilasciato il loro bel sapore questo magari se non siete come Gabriele fatelo prima di mettere il riso bene quindi buona ricerca dell'aglio e ci vediamo dopo eccolo l'hai trovato? bene siamo quasi arrivati alla fine come avete visto il sughetto di cottura è andato evaporando l'abbiamo aggiunto quante altre volte l'acqua? solo una? solamente un'altra volta abbiamo aggiunto l'acqua quindi ora facciamo stringere ancora un po' questo sughetto di cottura ma nel frattempo grattugiamo un pochettino di sforzi di limone all'interno naturalmente non trattata certo questo è bio c'è scritto vedi qua mescolate ben bene ed è finito qui ci vediamo ad impiattare il piatto allora ci vediamo ad impiattare il piatto impiattiamoci insieme ciao ragazzi a dopo ed ecco il nostro bel risotto fa un profumino niente male ok questa è una porzione da ristorante nooo si da ristorante vabbè questa è già una porzione accettabile questa è una porzione accettabile perché è pieno di frutti di mare ma questa è una porzione invece soddisfacente bene ed ecco il nostro risotto nero ai frutti di mare risotto nero al nero di seppia guardate che bello questo è un piatto afrodisiaco un piatto che veramente per quelli che hanno problemi di pressione sarà una manna dal cielo tu vuoi qualcosa da aggiungere? assaggiamolo assaggiamolo mmmm è buono? è buonissimo un'esplosione di gusto veramente sembra di leccare uno scoglio e quindi visto il colore bene bene uno scoglio nostro bene quindi ragazzi se trovate questo riso alla ridel provate questa ricetta garantito al limone garantito al limone e noi ci vediamo dopo le foto ciao ciao musica bene se anche voi solamente vedendo il video vi siete un attimino come dire non lo dire guarda non lo dire non lo dire se anche voi è venuta la voglia ecco la voglia ecco la voglia questo risottino che ragazzi è delizioso l'abbiamo mangiato tutti in famiglia e anche mia mamma ha detto è un piatto da ristorante perché effettivamente naturalmente il preparato del riso al nero di seppie ha con sé tutti gli umori e tutti i sapori tipici dei piatti da ristorante che sono addizionati molto spesso da varie cose e devo dire che però gli ingredienti sono abbastanza buoni nel risotto non ci sono cose strane assaggiatelo se vi va assaggiatelo io quel risottino lì nella scatola l'ho visto l'ho preso era un po' triste anche perché non viene nero nero viene grigio quindi con il frutto di mare arancione che spezza buono buono davvero non ci metterei i frutti di mare freschi tutta quella vagonata di frutti di mare freschi mi faccio due spaghi ragazzi però giusto però sul surgelato mischiare queste cose ci sta ci sta è stato bravo è stato bravo e quindi grazie al tuo aiuto grazie all'aiuto di voi che siete ormai 21.000-5.000 milioni e vi ringrazio del supporto che ci date ogni giorno certo e quindi se è veramente un piatto del ristorante mi raccomando a fine salata fatevi pagare in natura nooo no 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 ragazzi è un piatto buono e basta va bene chiudiamola qua io non so più come tamponarlo ragazzi forse con la macchina il moro è più definitivo bene bene va bene ragazzi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole ciao ciao